Eccomi qua, ho notato che sull'ultima settimana mistica numero 4700 c'è una novità, c'è un gioco vecchio che viene presentato sempre e sempre nello stesso formato, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 13 per 9, ho controllato anche le caselle, sono sempre quelle, viene presentato da anni e anni a pagina 40 e accanto al rebus stereoscopico sempre, dicevo, 9 di larghezza, 13 per altezza, però con una novità, ecco vedete che anche i giochi enigmistici qualche volta possono presentarsi sull'ultima mistica qualcosa di nuovo. Allora, di solito negli incroci obbligati abbiamo una o più lettere già stampate come partenza e di solito se non ci sono caselle nere vuol dire che queste lettere faranno parte di parole che occupano tutto lo spazio disponibile, cioè se c'è una lettera orizzontalmente e non ci sono caselle nere in quella riga, allora senz'altro fa parte di una parola di 9 lettere e stessa cosa verticalmente. Se invece ci sono le caselle nere, quelli sono gli estremi che racchiudono la parola. Però questa volta c'è una curiosità. Per risolverlo, partire dalla lettera esposta e tenere conto che nelle caselle grigie verranno inserite quattro lettere uguali. Ecco, allora vediamo che ci sono quattro caselle grigie nelle quali ci troveranno quattro lettere uguali, queste quattro caselle. Ecco, questa è la novità della lettera esposta, va bene, questa è la solita cosa. Allora, leggiamo subito le definizioni. Indice della borsa di Tokyo. E già qua mi viene un dubbio, perché l'indice della borsa di Tokyo è l'indice Nikkei. Allora, che non sia che le lettere scritte in queste caselle siano delle K. L'andamento del mercato, trend. Se è pesante si respira a fatica, aria è pesante. Il battuto del cuoco, questo non lo so, è compito del critico letterario recensire. Teniamo presente che ci sarà anche una lettera di quattro lettere che finisce per D. E qui l'indice, l'andamento del mercato, pensavo trend, però ha cinque lettere. L'armatura del palombaro e lo scafandro. Sca-fa-n-d-r-o. Ok, ne ha nove. Così è il discorso coerente, lineare. Caratterizzano Mont-Saint-Michel in Francia, le maree, gli anelli della catena. E non mi viene. Il più noto deserto africano è il Sahara. Un'escursione a trekking. E allora ecco la mia conferma. Scriviamo qui. Trekking è formato, si scrive con due K. Quindi, la situazione sarà o trekking Nikkei o Nikkei trekking. Intanto vediamo che abbiamo EI, EIE, EI, EIE in entrambi i casi. Vediamo se ci sono dei suoni RN ed NI oppure NR, mi sembra improbabile, ed IN. Un'escursione complesso che suona rock, una band, e questo dovrebbe essere giusto. Un'amanda dello spettacolo, Amanda Lear. Lear, l'inizio della carriera artistica, debutti o esordi. Il chewing gum e il chewing gum. Può sfuggire, cerchiamo i due K verticali di incrociarli. Può sfuggire a chi ha il singhiozzo, e sarà Hick, logorio da nervosismo stress. Teniamo presente che ci sono anche queste lettere scritte. Un esperto di potature e giardiniere. E giardiniere potrebbe essere... Oppure giardiniere. Giardiniere, però giardiniere qui non ci starebbe, perché incrocia con la B di band. Il marte greco, Ares, una Tina, Tina Turner, Turner, e Turner però... Adesso qua ho una cosa che mi conferma qui e una cosa che mi conferma qui. Andiamo avanti. Dal nome all'industria dei formaggi, caseificio, case... Casei... Casei... Da il nome... Casearia... Casearia... Era la moneta finlandese, il Marca. Ma adesso non so neanche se... Il Marca finlandese. Ostentare i... Non credono in Dio atei. Ostentare i propri meriti e vantarsi. Non è ripetuto, indica le fuse del gatto, wrong, wrong, wrong. Bisogna la temperatura. Termometri. Termometri. E non c'è niente per scrivere termometri. Aerei. Ai... Fokker. Vediamo Fokker. Se c'è una lettera con la F... Il nome di Modigliani, Amedeo, è pratica la cerniera. Cos'era, giardiniere, giardiniere, cerniera. Cerniera non può essere perché questa sarebbe la B qui. C-E-R-N-I-E. Non può essere. Questa non può essere. Cerniera. Giardiniere. Giardiniere. Ah, giardiniere. Eccolo qua. Giardini. Giardini. Forse c'è. Allora, se fosse così, proviamo. Giardiniere. E quindi abbiamo trekking, il caso che avevo scartato, e Nikkei. E questo è veramente tosto. E allora, marca o Fokker. Vediamo quelli due. Però giardiniere, lo metterei. Ehm, pratica quella lampo, cerniera, qui non può essere perché cerniera, c'è già la B, cerniera. La banca, la banca che era direct, la borsa è Tokyo Nikkei. L'andamento al mercato trend. Mamma mia, se è pesante si respira, aria pesante, alito, che ne so, il battuto, il timballo, non so cosa sia. Vabbè, il compito di credito, recensire, questo siamo sicuri. Allora, recensire, recensire, no, recensire ci può stare solo qui. E qua non ho fatto... Ah, il Modigliani, Amedeo, sì, Amedeo Modigliani. Ecco, vedete, le parole sicure, recensire è il verbo giusto. L'armatura è scafandro. Uh, scafandro, grande mossa. Scafandro, così, e marca, senz'altro, la parola che mi ero preparato qui, no, che però avevo il dubbio, non avevo coraggio. Marca e Fokker. E adesso il lineamento, il ragionamento lineare. Esordi. Caseina, come erano? Caseina. Leara, mandaleara. E adesso ci siamo, eh. Allora, l'armatura del palombaro, scafandro, fatta. Così il discorso lineare. Caratterizzare Mont Saint-Michel, le maree. Eccolo, anche maree. Ma mettiamo anche le caselle nere stavolta, lì. Esordi. Trekking. Nikkei. Lineare. Marca. Sbandierare. Sbandierare. Elogiare i propri meriti, no? Com'era? Ostentare i propri meriti. Sbandierare. E ormai ci siamo. Linikei. Esordi. Cerniera. Caseina. Uh, che bene che andiamo. Re Ernerto. Tina Turner. Gum. Chewingam. Uh, uh, uh. Allora, caratterizzano Monte Saint-Michel. Monte Saint-Michel. Marelli. Gli anelli della catena. Le maglie. Maglie. Può essere qui. Fokker. Mettiamo anche qui la casella nera. Il più noto deserto Sahara, sarà, sarà, sarà qui. Un'escursione, il trekking, complesso che suona la band, band. Un'armada, Amanda Lear. L'inizio esordi. Chewing gum. Può sfuggire? Penso che possa essere qui. Ah, ic. Ic. E così viene Sahara. Proviamo così. Logorio stress. No. Logorio da nervoso. Ah, stress, sì. Un esperto di potature giardiniere. La parola che c'era così c'era d'aiuto per partire. Marte e Ares. Un'attina Turner, dal nome dell'industria del formaggio caseina, caseina, l'industria casearia. La moneta finlandese è il Marca. Non credono in Dio. Acqua ce l'è. Attei. Il trito del cuoco. Ripetuto indica RON. Misura la temperatura. Gradi sarà. Gradi. Proviamo. Qui qui Freud. A trend. Il trend del mercato. Indice di borsa è Nikkei. L'andamento è mercato trend. Se pesante, aria. Ing e la Ing Direct Bank. Aerei Fokker. Modigliani, Amedeo. Pratica la cerniera. Ma sì, è fatto tutto qua. Casella nera. Ecco, neanche non le conto. Saranno giuste. Avevo un po'. Ecco, vedete. Era difficile, perché all'inizio non sapevo se mettere... Quale delle due parole mettere sopra e quale sotto. Ugualmente quale mettere prima e quale dopo come verticale. Comunque, c'è l'autosoddisfazione anche questa settimana mistica. Adesso devo riposarmi. Ciao a tutti.